Raimondo Curto, il primo a soccorrere il 31enne vittima di un tentato omicidio a colpi di pistola, racconta le fasi immediatamente successive all'agguato in cui, secondo quanto ipotizza il pubblico ministero Alessandra Russo, sarebbe responsabile Gianluca Scaccia, 34 anni, accecato dalla gelosia perché Vincenzo Curto, il fratello di Raimondo, avrebbe tentato di riallacciare una relazione con la sua ex moglie, in quel momento compagna dello stesso Scaccia. Mio fratello Vincenzo mi ha chiamato dicendo di andare urgentemente a casa e in campagna perché aveva bisogno di me. L'ho trovato sanguinante, faceva fatica a respirare, non mi disse mai quello che era successo. Il 26 giugno di due anni fa ha giunto il fratello della vittima, verso le 9 di sera mi ha telefonato dicendomi di correre da lui, l'ho trovato seduto con la pancia e le gambe sanguinanti, l'ho accompagnato in ospedale e i medici lo hanno messo subito sulla barella. Il pubblico ministero ha provato a chiedergli se il fratello avesse fatto delle rivelazioni su chi era stato a sparargli. Gli chiesi cosa era successo e mi disse che non lo ricordava. Evidentemente era sotto shock, ma anche nei giorni successivi mi diede la stessa risposta. Dopo di lui è toccato a Raimondo Scaccia, fratello dell'imputato, rispondere alle domande dei giudici, del PM e del difensore. Dello stesso fratello, l'avvocato Angela Porcello. Quando hanno restato mio fratello ho capito che Vincenzo Curto si era vendicato. Comunque Gianluca la sera era tranquillo, si era fidanzato con l'ex moglie di Curto, sì, era notorio a tutti.